ciao a tutti e bentornati in un nuovo video sulla serie di gp manager oggi facciamo un video particolarmente atteso nel senso che vi avevo già preannunciato che come avete visto dal titolo riguarda il mega aggiornamento che c'è stato il 30 marzo sul sul gioco con l'introduzione della modalità 3d alcuni di voi mi hanno chiesto di fare questo video io questo video volevo farlo all'inizio di aprile appena uscita la nuova modalità ma come sapete o come non sapete adesso comunque lo vedremo ci sono stati moltissimi bug che hanno afflitto il gioco soprattutto nei primissimi giorni e anche oggi a quasi un mese dall'uscita ci sono ancora alcuni gli sviluppatori si stanno prodigando per risolverli piano piano alcuni ad alcuni sono state messe delle pezze altri li sfrutteremo anche per la nostra modalità di gioco ma comunque questo questo video esce ma è un'uscita in divenire nel senso che comincio a condividere con voi comincio a utilizzare la nuova modalità e vediamo piano piano cosa scopriremo insieme la nuova modalità prima di tutto per attivarla occorre andare qua in alto dove cliccate sul logo sul vostro logo della vostra squadra andate sulla sulla rotella delle impostazioni e nel visualizzatore delle gare potete mettere il 3d salvate e così automaticamente tutte le gare sia veloci che normali saranno in 3d attualmente alcune piste non sono attivate per questi aggiornamenti dell'ultimo minuto perché avevano talmente tanti bug che alcune piste sono per adesso solo in modalità 2d per queste cose seguite sempre il forum qui cliccate su gp e qui in basso trovate il forum dove se avete suggerimenti se insomma è un forum normalissimo sul gioco il forum ufficiale del gioco dove io ma soprattutto anche altre rispondiamo per domande dubbi e tutto quanto ecco quello il punto di riferimento alcuni mi scrivono in privato chiedendomi di risolvere alcuni problemi sul gioco ma in realtà è quello il posto in cui bisogna fare questo tipo di richieste ok allora vediamo un po prima di iniziare però volevo invitarvi a iscrivermi al mio canale perché come vi ho già detto appena esce un nuovo video e quindi quando ho qualche novità per quanto riguarda il 3d o per quanto riguarda il gioco faccio un video e quindi siete subito avvisati anche perché le visualizzazioni in quest'ultimo periodo si sono impennate perché molti di voi stanno cercando informazioni riguardo al gioco sia i nuovi iscritti riguardo il 3d sia i vecchi iscritti perché anche la modalità 2d è cambiata parecchio è stato tutto riparametrizzato e quindi si riparte quasi da zero io già qualche cosa l'ho scoperta e adesso durante il video poi vi dirò tutto come sempre condividerò tutto con voi quindi iscrivetevi anche perché ho notato dalle statistiche del canale che il 90 per cento delle persone che guardano i miei video non sono iscritte al canale tutto qui allora parliamo del 3d intanto mentre io parlo per non farvi vedere le solite immagini statiche vi ho messo di sfondo la gara che gara veloce che ho fatto ad abu dhabi giusto per farvi un esempio per puro caso è venuto il classico esempio di quello che penso del 3d allora è una bella cosa sì graficamente molto bella è molto wow attira nuovi iscritti sicuramente i dati sono a dimostrarlo e il gioco aveva bisogno di tanti di nuovi iscritti perché ormai lo zoccolo duro si era fossilizzato e nei campionati ormai c'era solo l'elite non c'era quasi più nessuno che giocava in rookie però tanto è vero che la gente non veniva perché tanto comunque non riusciva a trovare nessuno o pochissimi campionati in cui crescere ecco quindi ci voleva questo aggiornamento sicuramente però ovviamente vabbè è stato rilasciato troppo presto con pochi test ringraziamo gli sviluppatori lo sviluppatore perché comunque è un gioco totalmente gratuito è un gioco in cui non si deve investire niente per essere i migliori del mondo io non ho mai comprato token non ho mai investito un euro in questo gioco e sono due anni che ci gioco tra l'altro proprio in questi giorni quindi tutto quello che viene bisogna solo ringraziare criticare è facile però bisognerebbe mettersi lì e provare però è vero la modalità 3d dal poi vi farò vedere verso fine gara che dalla dalla vista si può modificare sia aerea tipo dall'elicottero da inseguimento cioè da dietro l'auto oppure da dentro l'abitacolo proprio come fosse fosse la visuale del pilota l'ultima modalità invece che è un po dall'alto è diciamo molto simile alla modalità 2d e come vedrete la grossa pecca ma per chi gioca da da sempre a questo gioco è non per solo per me o è una pecca generica il problema è esattamente quello che dovendo controllare l'auto alla fine avete visto che vedrete che per sorpassare il secondo cosa ho fatto gli ultimi due giri ho messo la visuale dall'alto che avevo bene la visuale delle distanze dei distacchi mi sono avvicinato con col cares lui ne aveva più di me ma io l'ho fregato utilizzando prendendogli drs e l'ho fregato sul traguardo dalla visuale praticamente 2d dalla visuale 3d è molto bello devi conoscere non c'è una mappa del circuito piccolina quindi non riesce a capire dove sei se sei in un punto dove occorre utilizzare la spinta oppure no bisogna imparare le piste a memoria certo anch'io ho giocato i simulatori ho giocato i simulatori e quindi anche lì come si fa lì si imparano le piste a memoria si impara a memoria dove dove utilizzare dove è il drs si imparano a memoria a valutare le distanze ad occhio si impara a memoria dove le curve dove bisogna spingere più di più di spingere di meno e quindi comunque anche magari switchando tra le modalità uno comunque riesce a giocare questo è il mio parere poi ovviamente in continuo miglioramento secondo me sono due giochi completamente diversi il gioco 2d il gioco 3d sono due giochi completamente diversi per me dovrebbero mantenere il 3d come simulatore se uno vuol fare sia la gara veloce ma anche il campionato in 3d si fa il campionato 3d si impara le piste come gioco di simulazione ci sta costo zero cioè io non non ci vedo niente meno dei giochi di simulazione della serie di sport per esempio con cui gioco sì ci sono molti meno parametri vabbè è comunque un gioco gratuito che puoi giocarci anche da cellulare e magari svilupperei un pelo di più la parte manageriale che tra l'altro la parte che personalmente a me piace di più anzi vi dico una cosa io sono un vecchio giocatore della serie dei grand prix manager di micro pros se volete qualche video anche su quei giochi ditemelo perché io ci gioco ancora e so che fanno ancora gli aggiornamenti pensate sono giochi di 25 anni fa e fanno ancora gli aggiornamenti con i piloti le scuderie della stagione attuale ok archiviata la parte 3d passiamo a parlare delle novità che hanno riguardato la parte 2d pochissime allora un paio di novità grafiche prima di tutto vedete subito che nella schermata di presentazione della pista questa qua che sto indicando adesso hanno cambiato l'immagine di tutte le piste e seconda cosa nel negozio hanno cambiato le immagini le hanno reso un po più belline le immagini dei delle varie parti che si possono acquistare ecco finite le novità grafiche per quanto riguarda invece la parte 2d del gioco hanno cambiato il layout di praticamente tutte le piste ho letto sul forum che pare per motivi di copyright con la fia però vabbè sono piccole modifiche che non non influiscono sull'assetto però in alcune piste è stato spostato il punto di drs quindi attenzione adesso per esempio vi faccio vedere che in malesia la pista della malesia il drs è stato spostato nel rettilineo precedente prima era nel rettilineo del traguardo adesso è nel rettilineo precedente per il traguardo qui cosa cambia cambia la tattica della gara perché praticamente prima se bisognava arrivare al penultimo giro secondi per sorpassare sul rettilineo dell'ultimo giro il primo e poi andare via col 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 kers adesso invece la tattica è il contrario quello che vi dicevo un paio di video fa no sul quando utilizzare il kers adesso la tattica è il contrario dovete essere dovete arrivare al alla fine dell'ultimo giro quindi quando c'è il drs secondi quindi dovete stare secondi tutto l'ultimo giro magari utilizzando il kers perché il primo cercherà di scappare via per non farsi prendere drs quindi lì voi dovete bravo essere bravi a cambiare a cambiare statica cambiare strategia dovete leggere la gara ecco importantissimo leggere la gara utilizzare il kers con il nuovo aggiornamento utilizzare il kers quando è necessario adesso poi lo vediamo nel dettaglio quindi quello che dice un paio di video fa nelle tipo di strategie negli ultimi giri a seconda se il punto di drs era appena prima del traguardo dell'ultimo giro oppure appena dopo quindi adesso per il caso della malesia è completamente invertito il resto rimane tutto uguale ecco con questo aggiornamento hanno cambiato la pista della germania invece che il nurburgring hanno messo okenheim okenheim è quella nuova ovviamente non il vecchio okenheim l'assetto non cambia è sempre uguale ma sì è una pista abbastanza normale c'è già corso ma niente di che hanno tolto la vecchia silverstone in versione fino al 2009 quindi quella molto veloce che penso che non utilizzasse più quasi nessuno e niente quindi per questo è tutto qui poi in seguito ai bug grafici che si sono evidenziati a seguito dell'aggiornamento hanno avuto dei problemi con la scala delle piste praticamente si sono accorti che in alcune piste il giro durava troppo o troppo poco quindi hanno dovuto rimodulare il numero dei giri hanno trovato questa questo escamotage per sistemare provvisoriamente per poi tornare ovviamente con un aggiornamento futuro a con i vecchi giri il caso più eclatante è l'australia che è stata portata da 58 mi pare a 100 giri perché si gira sotto il minuto le auto impiega 58 59 secondi a fare il giro cosa cambia è nelle strategie più o meno niente perché comunque anche il consumo delle gomme è stato abbassato è tutto in scala quindi in realtà non cambia nulla cambia solo il numero dei giri la durata della gara non cambia perché comunque essendo il giro più lento sul 100 per cento sempre circa 40 45 minuti durano le gare e beh una nota positiva invece monaco monaco è leggermente più veloce perché meno male perché prima monaco era veramente una palla ecco poi ci sono dei piccoli bug che riguardano determinate piste adesso vi faccio vedere per esempio nella silver nella pista di silverstone c'è un pezzo di corsia box che in cui le auto la saltano cioè si teletrasportano automaticamente più avanti questo lo possiamo utilizzare a nostro vantaggio perché il tempo nella corsia box si riduce di molto passa circa 11 secondi mi sembra che qualcuno ha cronometrato quindi conviene fare una strategia con più pit stop ecco adesso ad esempio dipende sempre ovviamente poi il numero di pit stop dipende sempre da che percentuale di gioco giocate quindi anch'io piano piano sto scoprendo queste cose un'altra cosa che ho scoperto è che le gomme sono molto meno influenti di una volta per esempio ho fatto di recente una gara in spagna e gli ultimi giri chi aveva le super soft e chi le medie con gli stessi carichi di benzina più o meno girava sugli stessi tempi perché ovviamente quelli con le medie potevano spingere di più quelli con le super soft spingevano meno e quindi bilanciavano il fatto che le gomme siano più lente ecco invece ho notato che il peso della benzina mi sembra di aver notato che il peso della benzina è molto influente infatti ripeto tornando sempre all'esempio di della spagna gli ultimi giri che avevamo tutti lo stesso carico di carburante più o meno facevano gli stessi tempi mentre durante la gara quando avevamo strategie diverse notavo che andava molto più veloce chi aveva meno benzina queste però sono cose tutte in divenire che sto scoprendo piano stiamo scoprendo piano piano perché comunque mi sento con anche altri giocatori che più o meno condividiamo le stesse le stesse scoperte e quindi è tutto in continua evoluzione ovviamente rimane vi terrò aggiornati e per questo che è importante iscriversi anche al canale e quindi appena ho qualche novità la condivido con voi quindi per oggi penso di avervi detto tutto e ci vediamo al prossimo video ciao